Il treno che ritorna da guerra, sai se i treni che tornavano da guerra c'erano un po' di tutti così, tornavano verso casa insomma, il treno, tre persone in tal treno, si guardavano, si tocchiavano, a un certo punto uno si alza, era russo, noi russi in guerra avevamo portaerei più grandi, altri due siti, a un certo punto uno si alza. Allora noi americani avevamo portaerei più grandi, perché i nostri portaerei portamessaggi per andare da Popaprua usavano bicicletta, i nostri porta messaggi per andare da Popaprua usavano motociclette. All'altro, si, ehi tu, tu, come avevate voi i portieri? Guarda io non so come c'eravano i portieri, io so solo che sui nostri approcci era la guerra a Poppa non sapevano cazzo di fare.